Come mai continuo a sentirmi tradito, tradita? E anche questa è una situazione che accade spesso e accade soprattutto alle persone che in qualche modo sviluppano una identità di carattere, quindi un ego, che in qualche modo ha a che fare con la rabbia. C'è uno schema di rabbia che accade, accade, riaccade, probabilmente c'è anche uno schema sistemico dove qualcuno se ne è andato, qualcuno ha tradito prima, per cui si replica poi anche nella nostra storia attuale il medesimo pattern, come dire, però fondamentalmente il senso di tradimento che ripeto è solo un modo di pensarla, perché in realtà, per esempio, se abbiamo a che fare una relazione, in una relazione può capitare che la persona, l'altra persona incontri un altro, incontri un'altra, ma un conto è incontrare un'altra persona, un conto è sentire che siamo stati abbandonati, che siamo stati traditi. Ora, quando c'è questo, c'è sicuramente un livello di coscienza non sveglio, per cui irrisvegliabile, quindi con delle domande nuove, semplicemente, come potrei fare a sentirmi a mio agio da parte mia, così che posso sentire sempre che chi è al mio fianco è la persona perfetta per me? Oppure ci va a risolvere qualche cosa di sistema che tipicamente potrebbe avere a che fare con qualcuno che non ha onorato una qualche situazione di tipo affettivo, ma alle volte anche finanziario o di altra natura, nel nostro sistema di origine.